Reti elettrificate contro i cinghiali. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dichiara guerra alla fauna selvatica. L'obiettivo è difendere i prodotti autoctoni di una terra spesso devastata dalle incursioni selvagge dei grossi animali. I cinghiali prendono di mira orti, vigneti e piantagioni ancora in fase di crescita e le loro presenze in prossimità dei paesi dove vengono coltivati ortaggi sono diventate quasi continue. L'aria più colpita è quella degli Alburni, in particolare i comuni di Sant'Angelo a Fasalella, Corletto a Monforte, Ottati e Castelcivita. Non meno sentito il problema nel cuore del Cilento, a Monte Corice per esempio, per Difumo, Castellabate e Pisciotta. Le recinzioni elettrificate dovranno servire dunque a tenere lontana la fauna selvatica dai campi. Secondo Coldiretti Salerno però tutto ciò non basta. Vanno trovate ulteriori misure per scongiurare quella che è diventata una vera e propria emergenza e di qui la richiesta dell'adozione di un programma di abbattimento selettivo. Ma contro l'allarme cinghiali, intanto il Parco ha pubblicato il bando per l'acquisto di sistemi di prevenzione. L'ente offre fino a 15.000 euro per la realizzazione di recensioni a protezione delle culture agricole. Possono accedere ai contributi soggetti, proprietari o conduttori di terreni ricadenti all'interno del perimetro del Parco. I beneficiari si impegnano a installare correttamente le recinzioni e ad effettuare la manutenzione delle stesse. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di assegnazione entro e non oltre il 14 novembre 2013. Il bando è consultabile su www.cilentoediano.it